In questo soleggiato pomeriggio ci troviamo proprio a casa a Valdobbiadene a festeggiare questa bellissima manifestazione che è la Fiera di San Gregorio e adesso vi porterò a fare un giro. Scusate la voce, sono un pochettino influenzata, la festa ha già fatto il suo corso. Ci troviamo in un bellissimo stand, tra i tanti insomma che troviamo qua all'interno della Fiera di San Gregorio, alle spalle Prosecco, Prosecco, Prosecco e cosa ci può dire lei? Abbiamo una realtà molto significativa, molto conosciuta in giro per il mondo e sempre più in espansione. È un vino che piace, è relativamente poco alcolico, si adatta a tante circostanze in l'arco della giornata, soprattutto chiaramente nei momenti più felici, nelle feste, nelle occasioni di stare in compagnia, conviviali e vedo che anche i giovani stanno vicinando in maniera entusiasta questo tipo di prodotto che rappresenta in modo particolare il nostro territorio. Fatta acquisti signora? Sì, ho fatto delle essenze, calendola, zenzero, liquirizia che fanno molto bene la salute, sono proprio salutari. Io sono sempre all'assaggio, sono circondata da formaggi, formaggi. Sì, sono formaggi di produzione nostra, la maggior parte. Abbiamo formaggi particolari, tipo i blu affinati, per esempio con i frutti di bosco, questo con otto tipi di erbe diverse, affinature che facciamo noi, poi abbiamo l'imbriago. Perché l'imbriago? Perché uno mangia e beve nello stesso tempo. Ma come? No, praticamente questo viene messo nel vino, in un cabernet, viene perforato e poi viene messo nel vino e quindi acquista un sapore particolare. Qual è il suo preferito? Quello di capra erborinato. Questo ha le 7-8 erbe, è una delizia. Non solo sapori, anche motori. Allora abbiamo trovato il trattore del ragazzo di campagna. Sì, questo è un trattore del 1963, diciamo che abbiamo la stessa età. Altro che principi azzurri sui cavalli bianchi, noi andiamo con un... OM 615, storico! Meraviglioso! Ecco qua, fresco e salato, latte intero, crudo. Ottimo per fare un risotto, magari porlacco, pere e noci. Per mantecare, allora! A fine cottura. Davanti al municipio di Valdobbiadene siamo arrivati e volati fino in Giappone. E in Giappone chi ho trovato è il signor Isidoro Rebuli, il presidente del consorzio del proloco di Valdobbiadene. San Gregorio, un grandissimo evento, ma le proloco che funzionano all'interno di questo appunto territorio? Beh, le proloco sono importantissime in questo territorio perché animano un po' quel territorio. In tutto il Valdobbiadene siamo 5 proloco che praticamente facciamo una serie di manifestazioni importanti, la maggior parte chiaramente legate al prodotto principe, al prosecco di Coneriano Valdobbiadene, superiore, però anche tantissime altre manifestazioni. Adesso quest'anno avremo gli alpini, abbiamo le varie sagre paesane, di conseguenza siamo sempre attivi. Nella fattispecie nella Fira di San Gregorio gestiamo uno stand, uno stand come Consorzio, che è qui proprio a fianco di questo splendido giardino dove stiamo, dove ci sono una quarantina di aziende di Valdobbiadene che mettono in degustazione il prodotto principe con il prosecco di Valdobbiadene superiore e noi lo gestiamo in qualche maniera con i volontari del servizio civile, quindi va chiaramente il nostro applauso e con l'aiuto chiaramente della proloco che fanno le varie turnazioni. Bevuto abbiamo bevuto, mangiato abbiamo mangiato, abbiamo anche fatto un giro con il trattore. Cosa manca? Solo della buona musica e sono qua con il leader del gruppo. Segnali caotici, una tribute band dei nomadi. Ciao a tutti, questa sera ore 21 credo, tutti in piazza che si balla, si canta con le canzoni dei nomadi.